Un elevato numero di incidenti stradali e modifiche necessarie a rendere la circolazione dei mezzi più sicura. Sono queste le motivazioni che hanno spinto i residenti di via Cimarosa e delle strade limitrofe a segnalare tanti disagi che si trovano a vivere ormai da diverso tempo. Una viabilità definita poco sicura per l'elevata velocità dei mezzi che transitano sulla via, non curanti di possibili controlli o sanzioni da parte della polizia che però sono quasi inesistenti, ma anche per l'assenza di una visibilità idonea in alcuni tratti della strada, specialmente all'altezza dell'isola ecologica e di un passaggio pedonale adeguato nel lato opposto alla pista ciclabile. I parcheggi selvaggi in aree dove la sosta non è concessa rendono una circolazione già compromessa ancora più complicata. Il comitato Costruiamo Futuro d'Italia Viva Pesaro, rappresentato da Giorgio Sant'Agati che è anche un residente della zona, ha portato all'attenzione dei cittadini l'elevato numero di sinistri stradali che ormai da diverso tempo hanno luogo in via Cimarosa. Gli ultimi due risalgono entrambi al mese di luglio, quando una residente che stava attraversando le strisce pedonali è stata investita e in un'altra occasione due scooter si sono scontrati. Diciamo le problematiche che abbiamo visto, abbiamo analizzato anche questa mattina con alcuni residenti, sono da un lato la mancanza di marciapiede che proprio potete vedere lì da fin da via Respighi fino in fondo a via Cicognani. Poi l'uscita stessa dell'area residenti del parco Mirafiore è problematica da un lato, molte macchine come forse potete vedere parcheggiano dove non dovrebbero e ci sono pochissimi controlli. Poi abbiamo anche l'isola ecologica che offusca un po' la vista quando uno deve girare a sinistra, un problema enorme e poi comunque sono gli automobilisti ma anche gli scooteristi devo dire indisciplinati che sorpassano sulla destra quando una macchina deve entrare, quindi invadono la zona pedonale e i residenti che escono dalle vie laterali rischiano di essere investiti da chi sorpassa sulla destra. Le soluzioni non le sappiamo quali potrebbero essere, stiamo valutando se una piccola rotatoria, se dei dossi, se una presenza più massiccia di forze dell'ordine che sanzionano chi parcheggia male, chi supera a destra e chi corre troppo veloce. Ricordiamo che questa è una strada comunque anche a scorrimento veloce per via delle ambulanze, lo capiamo, però la sicurezza dei cittadini, perché negli ultimi due incidenti che ci sono stati l'ambulanza c'è stata, è stata chiamata perché ci sono stati dei feriti. L'angolo Respighi via Cimarosa, molte macchine arrivano lunghe, immediatamente dopo via Respighi c'è un passaggio pedonale, quindi delle strisce pedonali, anche lì i pedoni rischiano la vita, i pedoni, accompagnati molto spesso anche da padroni col cane, perché immaginatevi il cane che tira, il cane tira, va avanti, arriva prima nella via rispetto al padrone stesso e può essere facilmente investito da un'automobile o da uno scooter.